La Presidente Sandrini che è qui con noi e tutta la circoscrizione perché ci dà ancora una volta perché sono tanti anni che ci danno questa possibilità, ancora una volta la possibilità di instruire di questo immobile che per noi è prezioso, tante volte come associazione prospettiva famiglia l'abbiamo definito nostra seconda casa quindi il fatto di poterci trovare qui in questa bella location, di poter distruire degli spazi, poter approfittare dei relatori è un grande vantaggio, quindi grazie ancora. Detto ciò, è la prima serata di 5, serate che faremo, i 4 verni di aprile e il primo di marcio ovviamente i temi sono quelli che sapete della geopolitica, questa sera parleremo del ruolo della Cina un grande bolosso orientale che cosa sta facendo, come si muove, se ne parla ma non troppo quindi si sta occupando dell'altro, intanto che noi europei ci stiamo interagando in questa guerra che è in corso quando è stato organizzato questi voti non era ancora scoperto la guerra, quindi hanno messo il tema della Cina all'inizio della serata il dottor Tivellaro, che poi presenterò, farà una breve digressione anche sul discorso dell'Ucraina non si può non citare, anche perché, come ho detto nello scritto, anche nella locandina vi ho fatto proprio un parallelo tra l'Ucraina e il Taiwan faccio proprio un cenno stasera, la mia responsabile diceva che abbiamo problemi nel rifornimento dei computer e soprattutto dei microchip, guarda a casa, la più importante società produttrice al mondo dei microchip è a Taiwan ok? i successivi incontri quali sono? veni clientilogo velocemente, poi passiamo al tema della serata mercoledì prossimo ci sarà l'avvocato Magrassi, che è esperto in questioni USA e quindi parlerà di USA, il ruolo dell'amministrazione Biden nell'attuale situazione politica mercoledì 20 ci sarà il professor Verzee, che ci conoscerete che parlerà dell'Unione Europea e sicuramente la domanda esce indebolita o rafforzata dal conflitto ucraino mercoledì 27, sempre l'avvocato Magrassi, guerra finanziaria e conflitti armati il tema delle sanzioni, avete sentito, sono bloccati variamenti in rubli è vietata la negoziazione di strumenti emessi da società russe, eccetera, eccetera effetti della guerra in Ucraina sugli equilibri gioco politici mondiali ultimo incontro, quello del 4 maggio, che verrà tenuto sempre l'avvocato Magrassi che parlerà di giganti del big tech e sfide per la democrazia pensiamo al ruolo che ha avuto Google, piuttosto che Facebook, che ha tuttora in questo conflitto il fatto che Google abbia oscurato con Google Maps determinate aree ucraina bene, veniamo al tema della serata, abbiamo detto parleremo del ruolo della Cina se ne parlerà una persona molto competente che è il dottor Lerio Privellaro e il dottor Lerio Privellaro ve lo presento è in Acromantova, si è diplomata all'Icea Classico, cittadino a Fe di Verona ha una laurea in Scienze Politiche e in Diritto Internazionale che ha conseguito all'Università dei Studi di Padua è entrato all'Inferno degli Affari Esteri, quindi ha percorso la carriera diplomatica ha ricoperto incarichi diplomatici con solari in 10 paesi sottolineo di 10 paesi, di cui 4 in Maglioriente, 3 in Europa e 2 in Asia credo che sia stato in Pakistan, è stato in Gran Bretagna, in Germania, in Egitto se non ricordo male, è sposato con due figli che vivono all'estero la fine maggiore è il minore, che è la buona settore del consulting il minore invece ha giocato per la sua vita internazionale di legge l'ultimo interesse per la storia e la letteratura di la cultura olandese del 600 ha come obbligo le donne stilografiche, gli scatti e le auto d'epoca segue di sfuggire allo sport, tutti i brani in calcio bene, lascerei la parola a lui, la persona che vedete a suo fianco è, per usare le parole, il libriamento sedicesimo l'umile servitore nella linea del Signore, cioè è l'amico Gian Carlo che aiuterà nello scorrimento delle slide io vi auguro una buona serata, sono convinto che il tema così come lo tratta il dottor Pibellaro vi abbia assoluto interesse e niente, buon ascolto ovviamente al termine se ci sono delle domande ecco, apriamo un attimino al dibattito se ci sono punti che volete approfondire e di cui volete chiaramente, grazie mi riuscite a sentire anche senza microfono o no? allora vado così? no? così? ok, benissimo allora buonasera a tutti quanti benvenuti a questo incontro come ha detto il Presidente faccio alcune considerazioni sull'attuale conflitto in Ucraina niente di, sono flash, no? niente di particolarmente organico c'è un dibattito che, diciamo un po' ridere se siamo alla terza guerra mondiale no, non siamo alla terza guerra mondiale perché chi combatte sono due paesi sostanzialmente Russia e Ucraina e anche perché abbiamo mai associato l'idea della terza guerra mondiale a un attacco nucleare siccome quello grazie a Dio non c'è e non dovrebbe neanche esserci diciamo che però la guerra c'è e come se c'è? al centro dell'Europa perché se voi prendete la carta geografica e calcolate la distanza dal Portogallo al Monti Urali come convenzionalmente è l'Europa il centro a seconda delle misurazioni è comunque nell'est Europa e uno dei paesi mi pare ci sia la Lituania un altro la Polonia un altro è l'Ucraina quindi è al centro dell'Europa non pensavamo di ritrovarsi come i tempi della guerra fredda con una divisione dell'Europa e con un conflitto non freddo ahimè caldo che come vedete tutto dai giornali come prendete ogni giorno sta diventando dilogoramento con il ritorno alle forme più odiose attacchi contro le popolazioni civili cacciata degli abitanti distruzione di centri pubblici case ospedali eccetera insomma una tragedia che pensavamo noi europei non si sarebbe mai più ripetuta sul nostro continente la guerra allora tra chi è? ebbè è tra potenze euro-occidentali vale a dire Stati Uniti più paesi-nato contro la Russia o se volete potenze diciamo così democratico-liberali contro potenza autoritaria si potrebbe dire ma non è vero che in fondo c'è la guerra perché sono state tracciate delle linee rosse è vero il presidente Biden ha detto fin da molti mesi prima della guerra perché lui non sarebbe intervenuto credo me è stato un errore andare a dire all'avversario proprio che noi non interverremo sarebbe stato più intelligente dire decideremo a seconda delle circostanze così è chiaro che ha annullato ogni possibilità di intervento è vero l'Ucraina non fa parte della Nato non scattava l'articolo 5 quello che prevede in caso di attacco contro un paese della Nato l'intervento degli altri paesi a sua difesa e quindi in teoria mancarebbe il punto legale per un intervento degli americani linea rossa che non va oltre il confine orientale della Polonia linea rossa a cui si è attenuto anche Putin perché avete visto che non ci sono stati attacchi tranne uno a 35 km dal confine polacco credo che sia stato un modo per assaggiare la reazione degli americani e credo che la reazione degli americani a parole evidentemente sia stata molto dura come per dire attento amico non riprovarci a colpirci in quelle zone però detto questo diciamo se è vero che nessun soldato della Nato è penetrato in Ucraina è anche vero che c'è un flusso di rifornimenti incredibile che sta andando dai paesi Nato all'Ucraina ed è la ragione della particolare capacità di resistenza che gli ucraini stanno manifestando in questo momento solo gli americani hanno messo a disposizione 3,8 miliardi di dollari finora in armamenti non su altre cose ma oltre all'armamento ci sono anche azioni di cyber war di appoggio informazioni raccolte attraverso droni e satelliti informazioni di intelligence cioè di servizi tutto questo vengono passati agli ucraini a questo punto è difficile dire che non ci sia una guerra in corso da una parte e dall'altra se c'è l'aggressione russa è indubbiamente un'azione ignobile quella che è stata fatta da Putin però dall'altra parte c'è una reazione giustificata finché volete da parte degli occidentali a sostegno degli ucraini facciamo una considerazione adesso a questo punto si prevede che il conflitto continuerà forse a lungo speriamo di no ma chi sono i vincitori di questo conflitto beh è facile dirlo comunque vada a finire vincono gli Stati Uniti senza sparare un solo colpo di cannone gli Stati Uniti hanno ottenuto la come dire ricompattamento dell'Unione Europea e dei paesi europei della Nato che adesso naturalmente spenderanno parecchie risorse per armarsi comprando materiale americano primo punto secondo punto l'applicazione delle sanzioni dure ma attenzione non decisive la storia anche dimostra che sanzioni applicate pensiamo a Cuba pensiamo all'Iran seppure non pesanti come questi rivolte alla Russia non riescono mai a breve e forse anche a lungo termine a colpire l'avversario cioè un tizio colpito da sanzioni all'inizio almeno resiste perché deve resistere alle sanzioni resiste perché fa appello a uno spirito nazionalistico del suo paese certo soffrirà anche ma non sono mai i dirigenti che soffrono è la gente comune questo dunque queste sanzioni come sappiamo benissimo non colpiscono però gli Stati Uniti gli Stati Uniti diciamo hanno orientato l'applicazione delle sanzioni la qualità delle sanzioni ma il peso maggiore lo subiamo noi europei come sappiamo tutti e come vedremo anche prossimamente il terzo punto è che con il il blocco al gas all'esportazione parziale per il gas molto vicino alla totalità tra poco forse per il petrolio sicuramente per il carbone gli americani riescono anche a venderci il gas naturale liquefatto purtroppo quattro volte il prezzo di quello russo è una cosa che dobbiamo pagare per difendere la democrazia e va bene non paghiamolo però sappiamo che c'è anche questo elemento era una cosa su cui aveva battuto tanto Trump per cercare di convincerci ad acquistarlo adesso c'è riuscito Biden poi c'è il rovesciamento dell'opposizione tedesca seitenwende si dice in tedesco cioè la svolta epocale da paese con la Merkel ma fin dagli anni settanta del secolo scorso con Brandt Schmitt eccetera c'era stata la Ostpolitik vi ricorderete ed era poi con la Merkel la posizione dialogante non bisognava mai prendere un atteggiamento duro con la Russia bisognava non stufarsi mai di parlare di cercare di convincere eccetera siamo passati a un atteggiamento molto duro da parte del nuovo governo tedesco 100 miliardi di euro per potenziare la difesa tedesca fanno della Germania il necessario come dire pione della futura difesa europea con buona pace di Macron e delle sue vague idee sulla difesa strategica autonomia strategica europea di difesa le sanzioni sono molto dure come ho detto si misurerà col tempo certo a lungo andare la Russia non potrà resistere però attenzione Putin era molti anni che si preparava la guerra e quindi avrà accantonato delle riserve avrà preso tutte le precauzioni necessarie per cercare di resistere a lungo gli oligarchi poveretti che hanno le barche sequestrate in Italia e non accedono ai conti correnti no non preoccupatevi troppo hanno intessuto tutta una serie di rapporti con paesi amici con organizzazioni anche malavitose con paradisi fiscali eccetera dove hanno depositato i loro soldi non rischiano la fame credetemi adesso parliamo un attimo di cosa sta succedendo certamente Putin ha sbagliato i conti io non so se è stato ingannato volutamente dai suoi servizi sembra strada ma tutto può essere o se non ci ha creduto ed è rimasto fisso sulla sua idea che Ucraina e Russia fossero un solo paese questo l'ha sempre pensato la storia non dimostra veramente questo quindi è rimasto probabilmente sorpreso dalla reazione che è tenace dura forte degli ucraini ma anche è stata sorprendente l'incapacità dei russi di arrivare a vincere la resistenza cioè hanno cominciato molto bene la prima sera hanno messo capo tutta l'aviazione ucraina i mezzi di trasporto e la contraerea sembrava un blitzkrieg e invece dopo sei settimane sette settimane siamo ancora impantanati non solo ma che i russi ormai sembra abbastanza chiaro che devono rinunciare a Kiev e a Kharkov le due città che vedete là sopra in alto e il problema è adesso dove si fermeranno perché dando per scontato che Luhansk e Donetsk le due province in basso in blu sulla destra rimarranno sotto il loro controllo Kherson che vedete appena sopra la Crimea è già in loro possesso cosa faranno? Continueranno occupando quella martoriata città di Majubol che è uno dei due porti dell'Ucraina e quindi saldando una specie di semicerchia in basso da sud a nord o continueranno al di là del Dnipro per arrivare fino a Odessa questo non lo sappiamo dipenderà dall'esito dei combattimenti certamente a questo sono anche legate le possibilità di trovare un accordo di trovare un'intesa difficilissimo in questo momento perché le posizioni sono estremamente diversificate diciamo che se l'Ucraina ha rinunciato all'ingresso nella Nato Putin ha rinunciato al cambio di regime ormai accetta Zelensky e non ci può fare altro insomma a meno che mandi un commando ad assassinarlo però altrimenti la situazione rimane questa dove dove si può trovare un compromesso un compromesso potrebbe essere trovato guardando alla storia in questa ipotesi ma non so quanto piazza agli ucraini ovviamente allora la Crimea è persa oltretutto gli ucraini non avrebbero nessun vantaggio a occupare una regione che è al 70% russofola quindi avrebbero problemi di guerriglia interna eccetera disastrosa la situazione da gestire le due province di Luhansk e Donek adesso sono occupate e probabilmente resteranno occupate sull'esempio di altre repubbliche che sono costituite sia in Transnistria sia in Georgia quindi diciamo sotto controllo repubbliche indipendenti ma in realtà non riconosciute da nessuno e sotto controllo russo e poi resta da vedere la fascia sud come si si organizzerà di certo ormai la sensazione è che due ucraine si creeranno cioè un po' l'esempio della Corea di quello che era stato il Vietnam o quello che era la Germania un'Ucraina diciamo orientale occidentale e centrale filo occidentale evidentemente senza sbocco al mare o forse con un solo sbocco al mare Odessa e l'altra parte destra e sud in mano invece alla Russia questa sembra essere la più come dire realistica possibilità di trovare un'intesa bisognerà vedere come andranno le cose io direi che ho concluso quello dell'Ucraina avete domande da fare sull'Ucraina e dopo passiamo alla Cina è tutto chiaro obiezioni precisazioni molto contento allora andiamo a parlare della Cina la Cina nello scenario mondiale poi ritorneremo ovviamente Cina Russia e guerra in Ucraina la slide 2 vedete i corridoi della via della seta grande progetto infrastrutturale cinese lanciato nel 2013 con l'obiettivo di unire la Cina all'Europa per via ferroviaria vedete i due tronconi gialli o per via marittima vedete quel cordone blu fu spacciato dai cinesi all'inizio come un'operazione win-win cioè in cui c'erano vantaggi sia per la Cina sia per i paesi dove queste vie sarebbero passate in realtà si è scoperto che non è così è un progetto cinese guidato dai cinesi orientato dai cinesi persino la manodopera in larga misura ai cinese e se ci sono stati dei finanziamenti cinesi come ci sono stati a questi determinati paesi per delle infrastrutture ad esempio i porti sono condizioni capestro nel senso che si dà un certo numero di anni per la restituzione del capitale prestato se questo capitale non viene restituito la proprietà di questo bene questa realizzazione logistica passa in mano ai cinesi c'è un esempio in quel vedete scritto colombo e vedete un cerchietto rosso attorno è lo sri lanka c'è un porto in sri lanka hamba totte si chiama che è passato ormai sotto il pieno controllo cinese perché i sri lanchesi non avevano i soldi da restituire per il finanziamento di questo porto guardate quella stelletta in africa vicina al mar rosso dove c'è sito Djibouti ecco questa è la grande preoccupazione americana perché Djibouti è finora l'unica base militare cinese all'estero gli americani hanno sempre sostenuto che questo progetto economico nascondeva anche finalità militari cioè il fatto per la Cina di stabilire delle basi strategiche sempre in vista di questo controllo mondiale perché questo bisogna dire che è progetto nei tempi cinesi cioè molto lunghi lontani indefinibili questa che vedete è il mondo sinocentrico non è una cartina del 1600 1700 è del 2013 fatta da un geografo cinese che illustra come la Cina vede il mondo loro sono la Cina piazzati al centro di questa carta vedete la povera America del sud in basso a sinistra molto meglio è trattata l'America del nord in alto a destra l'Africa sembra un po' schiacciata come un pugile suonato l'Europa invece tutto sommato si difende sto scherzando ma questa è la visione cinese del mondo attuale la Cina è stata impero vuol tornare a essere impero avrà i mezzi in futuro per ritornare a essere impero e dominare il mondo questo è il loro progetto evidentemente gli Stati Uniti sono anche loro un impero ma odiano la parola impero perché gli ricorda il regno inglese la dominazione inglese da cui uscirono alla fine del Settecento e che a loro ricorda la tirannia e la monarchia assoluta quindi diciamo non si riconoscono impero si riconoscono repubblica una curiosità nella Costituzione americana non c'è mai la parola democrazia c'è solo la parola repubblica la Russia era impero vorrebbe tornare ad essere impero ma non ne ha i mezzi come la catastrofica operazione militare in Ucraina sta dimostrato altro slide la Cina cerca spazio cerca spazio dove lo cerca dappertutto in tutto il mondo lo cerca allora in Europa attraverso il commercio in Russia per l'energia in Asia meridionale per influenza politica e infrastrutture in Medio Oriente di nuovo energia energia intendo gas petrolio eccetera in Africa per terreni coltivabili legname e minerali vari in America Latina influenza politica e di nuovo energia quindi è ecco gli interessi cinesi sono autenticamente globali è una visione globalistica di conquista del mondo attrago la vostra attenzione su questo Cina-Russia dove c'è scritto intesa tattica Russia-Cina questa è la discussione infinita ma è un'intesa tattica ma è un'alleanza ma è una amicizia ma è una collaborazione tutti hanno usato loro in realtà non è un'alleanza perché i cinesi non perdonano una cosa nel fine ottocento circa metà ottocento quando la Cina era in grosse difficoltà l'impero cinese era in grosse difficoltà i russi nella loro marcia verso oriente occuparono dei territori che ho salito storicamente cinesi e i cinesi questo ne erano mai mai perdonato e non sono sicuro che siano disposti a perdonarlo anche oggi però sta accadendo un fatto interessante lungo quella linea gialla che vedete se vedete Pechino guardate in alto salite in alto fino alla fine del paese della Cina col colore giallo ecco laggiù laggiù là in alto c'è la Siberia Siberia dove ci sono in quella zona più o meno 8 milioni di russi e di là dal confine circa 120 milioni di cinesi cosa stanno facendo i cinesi stanno penetrando lentamente pacificamente non si può mettere senza il governo in Russia attraverso piccole imprese ristoranti lavorazioni agricole tutta una serie di attività che svolgono che svolgono in Russia questo ve lo dico perché sembra essere il segreto più custodito al mondo i russi minimizzano e dicono che saranno boh 300-400 mila altri dicono che sono 6-7 milioni fa differenza evidentemente però capite anche che tra 8 milioni e 120 anche lì c'è una bella differenza cioè la pressione demografica cinese secondo me da quelle parti è inarrestabile e quindi la Russia dovrà accontentarsi di avere come ospiti più o meno graditi dipenderà dalle circostanze tanti milioni di cinesi ancora avanti abbiamo la Cina cerca spazio questo è credo che sia quello l'impero americano e la sfida cinese è questo sì l'impero americano e la sfida cinese allora la Cina ha una lunghissima storia eccetera eccetera di dominazione eccetera ma naturalmente ha anche avuto e ha tuttora avversari molto forti dell'area pensiamo il Giappone da cui le ha sempre prese in 3-4 guerre che ha fatto pensiamo l'India che è diventata sta diventando la più popolosa nazione del mondo pensiamo la stessa Russia perché adesso vanno da muovere d'accordo ma se non dovesse essere così sarebbe un altro elemento che diciamo così contribuisce ad accerchiare la Cina voi vedete quella linea nera no ecco quella è la linea di contenimento della Cina secondo gli americani perché ovviamente il rivale maggiore della Cina in questo momento sono gli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno messo in piedi un sistema di alleanze finora due sistemi di alleanze piuttosto interessanti una che si chiama Quad che è iniziativa quadrilaterale niente di misterioso che mette insieme India Australia Giappone e Stati Uniti e probabilmente tra poco si unirà anche la Gran Bretagna sempre sempre gli Stati Uniti con Gran Bretagna e Australia avranno un altro progetto AUKUS si chiama anch'esso volto a contenere la Cina l'espansione cinese come fa come opera la Cina la Cina ha due carte importanti il commercio è la fabbrica del mondo come sappiamo tutti e quindi una enorme capacità produttiva pensate tanto per dirvi un dato che il rapporto commerciale cioè import export tra Cina e Stati Uniti nonostante tutti i dazzi contingentamenti diritti applicati da Trump e confermati da Biden nella speranza di riequilibrare questo sbilanciamento che aveva però anche lo scopo di frenare l'ascesa cinese o la capacità esportativa cinese beh dicevo non ha cambiato molto ha cambiato i numeri nella quantità ma il rapporto è sempre di 1 a 4 cioè gli americani esportano 1 e continuano ad importare 4 di materiali di vario genere da cinesi l'altro elemento è la tecnologia anche qui è un punto di battaglia con gli americani sapete tutti Huawei la tecnologia 5G eccetera eccetera perché la Cina si è posta a un traguardo intorno agli anni 2030 più o meno il conseguimento di una superiorità tecnologica superiorità tecnologica attenzione non è fine a se stesso perché la tecnologia ha tante applicazioni una delle quali è ovviamente quella in campo militare quindi la supremazia tecnologica cinese si è raggiunta intorno al 2020 30 qualcosa del genere rischia di spostare gli equilibri verso la Cina anche nel settore militare e in effetti la Cina sta facendo enormi progressi dal punto di vista marittimo pensate che in pochi anni ha superato gli Stati Uniti oggi la Cina ha circa 400 navi da guerra contro i 300 e qualcosa degli Stati Uniti probabilmente gli Stati Uniti sono sono navi più potenti gli Stati Uniti hanno 11 portaeree a propulsione nucleare la Cina non ne ha nessuna ed sta costruendo adesso la terza portaeree però però diciamo c'è questo grosso intenso sforzo di miglioramento e ammodernamento della flotta cinese dal punto di vista tecnologico non stiamo parlando solo di comunicazioni il telefonino eccetera eccetera ma anche di altre cose più complesse e importanti il cyber war la guerra tecnologica le stazioni spaziali orbitanti su cui i cinesi stanno lavorando guardate che è un progetto di mettere queste stazioni spaziali orbitanti direte sì ma ci sono già sì certo ma i cinesi le vogliono anche armare in funzione di un possibile attacco contro la Cina se noi disponiamo di una stazione spaziale orbitante armata siamo in grado di intercettare i missili che malauguratamente dovessero piombarci addosso dicono i cinesi la luna è un'altra cosa avete sicuramente letto che un paio d'anni fa mi sembra un anno fa un anno e mezzo fa i cinesi hanno mandato una sonda nella parte nascosta della luna apparentemente è una cosa semplice in realtà spiegavano una cosa complicatissima che testimonia un possesso della tecnologia notevole ma i cinesi non ci vanno a piantare la bandiera ma prendono minerali rari e lo stesso obiettivo è nel caso di creare delle basi lunari che loro hanno intenzione di fare sempre alla ricerca di questi materiali rari perché si sa che i materiali rari sono importanti per la tecnologia e le applicazioni militari e via di seguito se finora abbiamo parlato della espansione cinese adesso possiamo dare un'occhiata allo strangolamento cinese qui ci arrivo un orologio che mi è scomparso perché voglio sapere troverò il contenimento della lo strangolamento della cina allora abbiamo parlato prima di India Giappone Corea del Sud tutti i paesi non amici della Cina Filippine Indonesia eccetera gli amici della Cina sono quelli in arancione cioè Pakistan e Nepal in realtà si può aggiungere anche la Cambogia che qui è messa tra i paesi qui distanti non lo è più e probabilmente anche il Myanmar quello dove due o tre anni fa ci fu un colpo di stato militare che pencola insomma diciamo verso la Cina le cose interessanti da notare sono queste allora vedete che c'è scritto prima catena di isole ecco il trattino giallo nero e più avanti sulla destra un trattino sempre giallo nero più grande e quello è la seconda catena di isole che cosa sono queste cose allora i cinesi cercano di rendere più difficile un possibile attacco americano evidentemente contro di loro spostando sul mare il confine di difesa quindi cosa fanno occupano una serie di isole alcune a loro appartenenti ma altre contestate contestate da altri paesi non gli importa niente ai cinesi loro vanno avanti e quando non trovano costruiscono dei veri e propri atolli con danni nell'ambiente spaventosi insomma perché è strato di scaricare sabbia e altre cose in modo da creare delle isolotti artificiali lì dovrebbero poi stazionare missili e altre armi di difesa vedete lì in mezzo appena sotto il numero 3 Taiwan quella lì è la famosa isola di Taiwan perché è così importante dal punto di vista strategico Taiwan per una ragione semplice se Taiwan cadesse in mano cinese avrebbero i cinesi la porta aperta sull'oceano l'oceano pacifico lì sulla destra non si vede ma più avanti ci sono gli Stati Uniti ovviamente quindi potrebbero sfidare tranquillamente la potenza americana sul mare voi direte ma perché non lo può fare adesso e non lo può fare perché ci sono tutta una serie di stretti e canali che rendono difficoltoso il passaggio non semplicissimo ponendo delle navi da guerra non è tanto per la distanza in sé dello stretto supponiamo che sia uno stretto che abbia 35 km vabbè 35 km cosa succede no succede perché di questi 35 km non ho detto che sia tutto bello pianeggiante cioè ci sono dei punti di passaggio altri no perché ci sono rocce perché ci sono correnti perché ci sono difficoltà quindi praticamente uno stretto ripeto facciamoli volte di 35 km diventa agibile solo per una larghezza di 5-6 km allora capite che se un paese ostile mette una nave di traverso o due o tre fa affondare da quello stretto non si fa sapere questa è la grande preoccupazione cinese che qualche amico degli Stati Uniti in una condizione di crisi internazionale molto forte crei questo questo problema e per i cinesi il controllo delle vie di acqua è fondamentale perché da lì passa l'esportazione dei prodotti cinesi cioè i cinesi hanno bisogno di esportare i loro prodotti e importare gas petrolio eccetera se li blocchi in passaggio li metti in grande difficoltà li metti in enorme difficoltà allora cosa stanno pensando invece gli americani di fare vedete in alto no è meglio vedere l'altra eccola qua sì cos'è quella è quella scusate no va bene vabbè vabbè mi posso mi posso parangere con questa gli americani dunque sopra Taiwan e sotto Taiwan ci sono due mari mar cinese orientale in alto mar cinese meridionale questa prima catena di isole contorna i due mari la tesi cinese è di fare di questi mari due ladi cinesi cioè su cui loro hanno effettivamente il completo dominio attraverso le isole o gli atolli eccetera eccetera gli americani dicono noi intendiamo chiudere la potenza navale cinese entro questi due laghi laghi cinese in questi due mari da lì cerchiamo di non farli uscire è interessante notare questo particolare gli americani si battono per la libertà dei mari dicono noi vogliamo assicurare che i mari siano liberi però in questo caso cercano di stringere costringere dentro questa catena di isole i cinesi i cinesi a loro volta dicono noi abbiamo hanno il diritto di ampliarci sui mari e questo va bene ma intanto occupano territori altrui come vi ho spiegato con il caso delle isolette contestate che loro non riconoscono questa situazione di contrasto non è destinata a risolversi facilmente perché ne va di un interesse strategico americano su Taiwan c'è un interesse strategico americano come non c'è stato in Ucraina lì invece c'è poi vi spiegherò anche che caratteristiche ha questa cosa allora nel 2022 il 24 febbraio inizia la guerra in Ucraina come la vedono Stati Uniti e Cina questa guerra allora gli Stati Uniti si sono trovati in un certo imbarazzo perché perché non sapevano se bisognasse continuare a dare la priorità al settore Indo-Pacifico quello o invece riconcentrarsi sull'Europa visto che i russi hanno attaccato militarmente ormai non si discute più nel senso che nella sostanza gli Stati Uniti hanno detto noi questa guerra non la facciamo la appaltiamo non come intervento armato ma come invio di armi munizioni eccetera come vi ho spiegato prima agli europei in fondo la guerra in Europa i primi a dover difendere l'Europa sono gli europei stessi quindi noi restiamo concentrati sul settore Indo-Pacifico il dubbio cinese è invece questo mantenere il legame con la Russia o cercare in qualche modo di sganciarsi cosa vuol dire sganciarsi vuol dire non legarsi eccessivamente a questa amicizia di cui ho parlato prima con la Russia perché se è vero che i cinesi hanno appoggiato l'azione russa criticando la Nato e criticando gli Stati Uniti non hanno apprezzato l'operazione militare assolutamente in privato ovviamente il primo punto è questo ma i cinesi sapevano o non sapevano c'erano stati informati o non erano stati informati di questo attacco russo all'Ucraina perché noi diciamo se erano stati informati sarebbero complici del pasticcio che si è venuto a creare se non erano stati informati sono stati traditi dai russi la verità probabilmente sta a metà strada cioè nell'incontro del 4 febbraio tra Putin e Xi Jinping probabilmente Putin accennò ma in maniera vaga a questa ipotesi ma mettendola così tra le cose che possono succedere eccetera eccetera non dando modo all'altro all'interlocutore di capire che invece c'era qualcosa di molto concreto e molto serio e in preparazione da tempo perché la Cina non vuole non ha pensato all'operazione militare perché la Cina vuole stabilità stabilità all'interno e stabilità nel campo internazionale all'interno perché a novembre ci sarà il congresso nazionale del partito cinese Xi Jinping era eletto per la terza volta leader supremo della Cina prima volta di un leader eletto tre volte e quindi ha bisogno di assoluta tranquillità al suo interno all'estero ovviamente per i commerci perché evidentemente senza ogni operazione militare disturba i traffici da fastidio crea problemi eccetera non piace neanche il riconoscimento di queste repubbliche indipendentistiche la Cina non ha riconosciuto l'annessione della Crimea alla Russia perché è un segnale contrario a quella che è stata sempre la sua politica politica di immutabilità dei confini da un lato e non ingerenza negli affari intendi dei singoli paesi è rimasta sicuramente costernata dalla incapacità militare russa credeva che la Russia avesse fatto progressi interessanti dal punto di vista militare e invece si è ritrovata un gigante che si è impantanato in maniera incredibile in Ucraina e non ne sta andando fuori ma soprattutto la Cina è portatrice come vi ho detto prima di interessi globali la Russia non è così la Russia ha interessi parziali in aree particolari cioè il Medio Oriente il Nord Africa il Centro Asia l'estero vicino come chiama le repubbliche la Modavia la Bielorussia l'Ucraina eccetera eccetera e quindi la sua azione è limitata l'azione russa diciamo è limitata per di più per di più in caso di stringere questa alleanza la Cina si troverebbe ad avere un peso cioè la Russia escluse i 6.000 se sono 6.000 le 6.000 ogive nucleari che possiede non ha molto altro sapete non ha molto altro da offrire come prodotto interno lordo è un decimo di quello cinese la Russia è pari alla Spagna più o meno insomma come prodotto interno l'industria è arretrata scarsa non ha degli tranne ovviamente il settore energetico petrolio e la capacità però è un peso che la Cina non accetta di condividere perché ritiene che non sia assolutamente nel suo interesse cosa farà allora la Cina questo è un dilemma gli americani insistono molto con la Cina perché si sganci dalla Russia dimostra di non essere compartecipe del crimine della guerra in Ucraina staccati è più facile a dirsi che a farsi credo che per adesso continuerà l'appoggio ma sarà un appoggio discreto avete visto che in una votazione alle Nazioni Unite la Cina non ha appoggiato la Russia ma si è astenuta è un segnale un piccolo segnale ma credo che sia interessante da notare poi dal punto di vista degli altri grandi la Cina cercherà di ricucire molto con l'Europa perché vede un'Europa controllata dagli americani come vi ho spiegato prima e quindi cercherà di fare l'operazione inversa cercare di sganciare in qualche modo questo contatto diciamo molto forte molto intenso che adesso c'è tra Stati Uniti e paesi dell'Europa occidentale riproponendosi come diciamo potenza economica insostituibile è vero perché sono 2 miliardi al giorno complessivamente l'import export di Cina e Unione Europea quindi è un peso rilevante ecco giocherà la carta del rilancio commerciale economico eccetera più che puntare ad altri cose faccio un'ultima prima di parlare poco poco di differenze tra Ukraine e Taiwan un'ultima non chiamatemi un cellaccio del malaugurio ma bisogna che ci abituiamo a questa cosa non è solo l'energia che sta aumentando e che crea problemi c'è anche il grano perché la Russia era la terza produttrice di frumento al mondo e l'Ucraina era la sesta se ci aggiungete che le coltivazioni del grano in Cina primo produttore mondiale se andate malissimo questo inverno perché è stata troppa pioggia avremo scarsità di grano e il prezzo schizzerà in alto e noi forse europei ci possiamo permettere di pagare il grano di più non se lo possono sicuramente permettere i paesi per esempio del Nord Africa e sapete che cosa succede se la gente in Nord Africa è ridotta la fagna le primavere arabe sono cominciate da problemi del genere e quindi c'è da aspettarsi oltre ai milioni di profumi ucraini che già sono venuti in Europa milioni di persone che arrivano dal Mediterraneo del paese del Nord Africa perché non hanno di che mangiare e non ditemi mangeremo riso perché se lo sono già accaparati i cinesi l'India è il maggior produttore di riso ma ha già fatto contratti l'India è il nemico ma quando sono gli affari gli affari sono affari e se lo sono già gruntate la produzione di riso eccedente dell'India che poteva esportare se lo sono accaparati i cinesi ultimo finale allora differenze tra Ucraina e Taiwan la prima è semplice elementare l'Ucraina è un territorio collegato alla Russia Taiwan è un'isola Taiwan dista 150 km dalla costa cinese secondo gli esperti militari ci stante l'attuale forza taiwanese cioè circa 450.000 uomini dando il rapporto 3 a 1 per una invasione che abbia probabilità di successo i cinesi dovrebbero mettere in campo 1.500.000 uomini impossibile impossibile da fare anche per i cinesi perché significherebbe attraversare questi 150 km sotto i razzi le bombe gli attacchi dei taiwanesi non è fattibile a questo momento della preparazione della Cina quindi pur continuando naturalmente la pressione le provocazioni eccetera eccetera però la Cina credo che abbia accantonato certo può dire dal suo punto di vista questo può dire però attenzione perché gli americani si sono ritirati dall'Afghanistan non sono intervenuti in Ucraina se noi attacchiamo Taiwan magari non intervengo e invece no perché ve l'ho spiegata la ragione strategica cioè Taiwan deve rimanere in mano ai taiwanesi secondo la tesi americana proprio per evitare questa esplosione questo rilancio della potenza navale cinese nell'oceano Pacifico tra l'altro però buffo questo non esiste un trattato di amicizia e di collaborazione militare tra Stati Uniti e Taiwan non esiste perché Taiwan non è uno stato indipendente non lo è ma come è riconosciuto da certo è riconosciuto de facto ma non è dei ue perché nel 1980 Teng Xiaoping il piccolo timoniere quello mettino non so se lo ricordate era piccolo minuto sempre gentilissimo eccetera aveva avuto una geniale idea c'è uno stato e due sistemi che cosa vuol dire che lo stato è uno la Cina quindi Taiwan come Macao e Hong Kong sono province della Cina ok però accettiamo fino a quando dipende che esistano esistano province che hanno una autonomia amministrativa non ci deve essere una politica estera di questi paesi a voi mi direte ma non è vero perché questi la fanno certo ma siamo de facto se se dovesse Taiwan proclamare la propria indipendenza questo è una di quelle linee rosse che la Cina non tollererebbe rischieremo veramente l'invasione cinese gli Stati Uniti non erano vincolati nell'Ucraina come vi ho detto perché non entravano nella Nato e quindi non si scattava quell'articolo basta mi sembra che ho esaurito i punti di approfondimento sono a vostra disposizione per delle domande ci sono domande da parte del pubblico non posso portare il microfono anche se fa la voce alta fino adesso abbiamo visto per cui riguarda l'Ucraina le conte russe e gli avori la sento la sento male l'eroe degli americani dell'occidente perché riguarda la crisi russa che non ha molto enunciato negli ultimi otto anni tra 2014 e poi quanto hanno pesato quello che poi era bella domanda bella domanda e hanno pesato parecchio allora la cosa va vista storicamente 1991 cade l'Unione Sovietica i paesi ex satelliti sono ben lieti di essersi ex satelliti vuol dire Polonia Ungheria Ciposlovacchia Romania Ungheria eccetera sono ben lieti di essersi liberati dal dominio comunista cosa fanno questi paesi oltre a naturalmente eleggere liberamente i propri governanti eccetera eccetera chiedono l'ingresso nella Nato la Nato accetta inizia delle trattative eccetera eccetera ma tra il 91 e il 2004 tutti questi stati ex satelliti comprese anche le tre repubbliche baltiche che facevano parte dell'Unione Sovietica ma che erano una storia un po' diversa entrano a far parte della Nato qual è il ragionamento di Putin Putin dice ma se la Nato fu costruita per fronteggiare l'Unione Sovietica l'Unione Sovietica non c'è più noi abbiamo disciolto il patto di Varsavia voi scegliete la Nato in realtà Putin chiese di aderire la Nato ma fu rifiutato perché voleva la parità di condizioni con gli Stati Uniti cosa che gli Stati Uniti non volevano assolutamente dare perché in quel periodo 1990 e anni successivi la Russia la nuova Russia era in enorme crisi la guerra Cecena eccetera i rivolgimenti interni e compagnia quindi c'era una duplice pressione quella dei paesi ex satelliti che volevano agganciarsi alla Nato per avere la sicurezza che in caso di una guerra la Nato e gli Stati Uniti li avrebbe difesi ma c'era anche l'interesse americano di spostare sempre più a Oriente il confine cioè fare il discorso inverso l'azione inversa di quella che Stalin aveva fatto alla fine della seconda guerra mondiale quando era arrivato fino a Berlino Berlino Est insomma e quindi la concomitanza di queste due operazioni ha comportato questo questo allargamento della Nato ad Est tutti gli storici sono d'accordo nel dire che fu un errore la precipitazione con cui la Nato decise di assorbire questi paesi si sarebbe dovuto probabilmente attendere si sarebbe dovuto forse selezionare dei paesi trovare delle formule che potessero garantire diciamo alla Russia la sua sicurezza il problema è che allora si pensava che la Russia fosse in preda a una crisi reversibile dicevano che era uno scatolone sfondato da prendere a calci e allora sai in questa situazione diciamo la tentazione era troppo grande anche dopo anche allora andiamo avanti andiamo al 2014 con la rivolta di Jero Maidan con l'insediamento di un governo filo occidentale fortemente filo occidentale che i russi non accettavano non 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 è che centri di per sé la Nato c'entrano i paesi della Stati Uniti i paesi dell'Unione Europea che hanno aiutato la l'Ucraina questo comportamento è stato da Putin ritenuto intollerabile inammissibile secondo me lui aveva una fobia della Nato no probabilmente più di quello che la Nato davvero potesse costituire o potesse rappresentare però da lì è nata questa profonda avversione e questo desiderio di di riportare all'Uvide la Nato ma vi dico un altro c'è un episodio che è molto interessante nel 1994 a Budapest fu a scusate si a Budapest fu stipulato un'intesa in base alle quali tre ex stati della unione sovietica cioè diventati nel frattempo indipendenti Bielorussia Kazakistan e Ucraina appunto cedevano le armi nucleari che esistevano sul loro territorio decedevano a chi? alla Russia perché? perché si riteneva che dandole alla Russia si fosse più sicuri che non lasciandola a questi paesi di nuova indipendenza che chissà qualche terrorista poteva impossessarsi di queste armi atomiche e fare un disastro globale questo accordo fu firmato tra questi tre paesi e i cinque membri del Consiglio di Sicurezza Stati Uniti Russia La Bretagna Francia Cina furono date delle garanzie molto chiare molto precise che questi paesi non sarebbero stati vittime di un'aggressione non sarebbero stati minacciati la loro indipendenza era garantita da questi cinque giusto? Che cosa successe? E successe che le garanzie diventarono assicurazioni le assicurazioni diventarono ma sì tendenze di fondo quando nel 2014 Putin si prese la Crimea e le due repubbliche si avvisero nessuno disse niente nessuno tirò in ballo dicendo ma qua c'è una violazione chiara e manifesta di quell'accordo del 94 addirittura Putin rovesciò la patata dicendo la frittata dicendo eh no ma quella ucraina filorussa che nel 94 firmò l'accordo non c'è più adesso c'è una ucraina fascista occidentalizzata che noi non riconosciamo per noi non c'è quindi quell'accordo che fu firmato con quella ucraina non vale più per noi assurda come tesi però c'è stato ecco perché gli ucraini hanno adesso una grande preoccupazione di trovare chi siano i garanti in caso di accordo perché bisogna trovare dei garanti disposti a opporsi a Putin nel caso Putin o chi per lui decidesse di riprendere le ostilità contro Kiev può togliere scusi la maschise la richiesta dell'Ucraina di entrare nella comunità d'Opera ma non nella nato la linea di in qualche modo richiedere una qualche garanzia che però l'Europa effettivamente potrebbe dare una spesa di Europa che è una soluzione di compromesso in cui si dice non entri nella nato perché sennò la situazione ritorna catastrofica ma puoi entrare nell'Unione Europea certo l'Unione Europea entrerà naturalmente l'Ucraina l'Unione Europea accetterà tra l'altro a proposito di guai futuri dobbiamo mettere pure in preventivo che dovremmo ricostruire l'Ucraina perché come ce la lasciano gli amici russi beh insomma hanno detto che l'Ucraina dovrà per ritornare al livello del gennaio di quest'anno dovranno passare vent'anni circa va bene chiusa parentesi sì l'Unione Europea non potrà dare una garanzia militare perché non ce l'ha come fa a dare una una garanzia scusate il concetto è molto semplice noi europei ci siamo cullati l'esempio è stato quello tedesco no del dialogare eccetera in una situazione in cui dicevamo la guerra non succederà più ma figuriamoci se è il nostro continente ma noi abbiamo bisogno di altre cose ci occupiamo del welfare ci occupiamo che la gente stia bene che abbia il posto di lavoro eccetera ma che c'entra la guerra e questo ha inciso nel profondo delle persone e quindi non siamo io adesso non è che voglio dire non siamo disposti a parte credo che sia così a morire per l'Ucraina ma siamo credi a questo che è una frase brutta e antipatica non abbiamo più uno spirito bellico non si ricostruisce dalla sera alla mattina uno spirito di dire eh no ma lì dobbiamo porre dei picchetti insormontabili e lì non deve passare nessuno e lì dobbiamo pretendere che gli altri lo rispettino non ce l'abbiamo noi tendiamo al compromesso per definizione dobbiamo prorogare nel tempo accogliere una domanda poi la seconda successiva mediare trovare eccetera questa è l'Europa sostanzialmente l'Europa diciamo proiettata all'esterno no non dico come quella del 1913 quello del 1913 sì solo che in Ucraina si sta difendendo meglio della Polonia scusi dove toglie sta maschile al di là degli interventi ultimi della Russia perché le 2000 continuano a cambiarsi di un po' realmente un po' naturalmente un po' spingendo le situazioni no non direi una cosa di questo genere perché mi sembra che lo spirito nazionale ucraino guardate che gli ucraini vi perco questa curiosità se voi prendete un Atlante geografico e lo vedete all'inizio della prima guerra mondiale nell'impero russo ci sono varie province non c'è l'Ucraina perché non esisteva c'era la Bukovina la Galizia la Transcarpazia ma non c'è l'Ucraina la parola Ucraina fu inventata da Lenin quando dovendo fare una ridistribuzione interna della Unione Sovietica disse Ucraina Ucraina vuol dire al confine terra di confine questo è il significato per cui allora io direi no questa azione militare questa invasione russa ha saldato ha creato ha spinto ha moltiplicato il sentimento nazionale ucraino certamente non tutti gli ucraini la pensano come Zelensky questo è certo perché ci sono in Donbass cioè praticamente lei di un'Ucraina deve considerare che l'Ucraina è divisa in due sostanzialmente una parte occidentale che va fino al fiume di Dnepr il più grosso ma e questa perché storicamente è stata così perché è stata sotto gli intuani che erano cattolici sotto i polacchi per 300 anni che erano cattolici sotto l'impero austro-ungarico che era cattolico e dall'altra parte invece al di là del fiume i territori russi diciamo che erano non cattolici ma ortodossi ma anche come composizione i primi a sinistra erano anche commercianti agricoltori e gli altri erano soprattutto impiegati nelle miniere di carbone ferro eccetera quindi c'è una divisione precisa dell'Ucraina e questo siamo d'accordo e quindi i sostenitori della Russia sono di là sono al di là del questo è vero però dire che ci sia in corso una guerra civile diciamo una guerra civile però con i confini ben precisi ecco sì 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 verissimo 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 c'erano governi filo comunisti e filo russi e sì certo c'era Kravchuk Kutzman Kutzman sì sì verissimo 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 certo certo quindi qui sei su di teo che è un po' di gara c'erano sì sì e l'ONU adesso è l'ONU chi mi sa dire chi è il segretario generale delle Nazioni Unite sì bravo qualche altro eh Antonio Guterres portoghese penso questo basti per capire no niente non ha finché esiste il diritto di veto è paralizzata per definizione adesso la cosa viene utilizzata dai russi poi viene utilizzata dagli americani viene utilizzata dai cinesi quindi un'azione universale delle Nazioni Unite su temi veramente politici particolarmente importanti perché sull'ambiente siamo tutti d'accordo per carità ma su questioni politiche precise non arriveranno mai sì esatto identica esatto quest'anno quest'anno e da quello che io dovrebbe passata la Cina ha grossissimi problemi di inquinamento ambientale legato anche a favore 700 milioni di maiali in cui le zone vanno inquinare i laghi allora mi domando un paese con queste problematiche ambientali lei c'era descritto come un paese che si sta molto espandendo militarmente tecnologicamente in giro per il mondo ma ha dei progetti dei programmi per rispetto ambientale perché alla fine dobbiamo fare tutti i conti con l'ambiente con cosa loro per riqualificare la loro targa inquinate le fade affifere inquinate perché è una popolazione che ha bisogno di un territorio non più così inquinato non respirare niente più quali sono i programmi in questa direzione della Cina no guardi che la Cina però ha un doppio record è uno dei paesi più inquinanti del mondo continua a essere il carbone per esempio ma è anche uno dei paesi all'avanguardia su certi settori del verde le auto elettriche sono le prime al mondo i cinesi nella produzione di questo cioè ci sono delle contraddizioni profonde di un paese enorme un miliardo e quattrocento milioni di persone capisce c'è un'enormità di 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 situazioni quindi è l'uno e l'altra cosa insomma certamente ragionerei la necessità di però Pechino da quello che so non è più così inquinata come è vero dico bene non è più così inquinata come era una volta che sembrava certo ci sono altre zone della cosa pure a Val Padana è una delle zone inquinate del mondo pure sugli impianti solari stanno costruendo il più grande impianto al mondo dove in Cina in Cina e sarà da l'autonomia oltre un milione di abitanti un impianto solo sì sì c'erano domande no la lei di Cina una considerazione che è minima una considerazione di quando sono stati gli impianti quest'anno la realtà l'indico invitato è stato tutti invitato ufficialmente alle le impianti quindi il fatto che la Cina non sapesse di cosa fosse che si accadde in Irania mi fa un po' pensare non so che una tenessa in questo senso in quell'occasione in totalità io ho pensato nella mia propone di violenza ecco che Putin va in valle alle Irane poi la sera a Campoli e la Cina per fare lo stesso Taiwan è proprio dato delle scorte in Italia di Irane dove ci sono difficoltà completamente diversa eh sì sì sono situazioni diverse quello sarà quello di cosa si sono detti Xi e Putin sarà uno dei segreti più costruiti della storia nel senso che non sapremo mai e poi anche se mi si è fuori dirà no non è vero eccetera eccetera ho letto questa storia di questo compromesso che secondo me potrebbe essere quello li ha accennato vagamente e l'altro ma l'altro ha capito ha fatto finta di non capire tutto tutto è possibile però sicuramente ehm la Cina aveva fino all'ultimo sconsigliato il ehm l'attacco militare e aveva anche detto che loro erano per la pace e eh contraria ogni iniziativa bellica eccetera poi hanno detto anche che c'è un'amicizia senza limiti no? tra i due paesi ma non è vero perché c'è ragioni storiche e ragioni attuali che ehm fanno in modo che non sia senza limiti questa amicizia avere dei limiti questa amicizia e la domanda questa è una cosa la domanda è che all'interno della società russa invece quanto quanto c'è di appoggio reale di tutti e quanto questo potrebbe minare la sua la sua protega di su chi può rispondere a questa domanda no no eh di censori russi no è difficilissimo cioè la mia impressione è che quanto più va avanti questa guerra tanto va peggio che Putin no perché non è solo una questione è questione di morti le ultime statistiche dicono che tra morti e feriti i russi hanno avuto 20.000 morti eh scusate 20.000 fuori combattimento diciamo militari fuori combattimento non tutti morti 7-8.000 eh se pensate in Afghanistan 10 anni di guerriglia eh i russi hanno perso 25.000 uomini eh insomma adesso ne hanno persi un terzo in poco tempo quindi ecco è questo fronte interno silenzioso perché non può manifestarsi perché se manifesti eh rischi di avere fino a 15 anni di prigione eh viene preso la polizia schedato eccetera eccetera questa eh operazione silenziosa però secondo me eh prosegue io per esempio sono convinto adesso eh non entro nel merito di quello che è successo a Buccia o in altre località francamente aspetto di sapere di più anche se tutte le indicazioni sembrerebbero portare eh ad essere eh opera dei dei russi io sono convinto anche se ho delle prove ovviamente che non siano eh stati veramente i russi ma sono stati mercenari al eh al soldo dei russi i ceceni guardate che i ceceni sono da una parte e dall'altra eh i ceceni sono sia contro eh sia con Putin contro gli ucraini e sia con gli ucraini contro Putin quindi eh sono sono come degli afghani cioè gente eh tradizionalmente guerriera fierissima difficilissima da piegare eccetera ma anche altri siriani eh che ricambiava il favore che ha fatto ad Assad eh si parlava anche di esbollali vadesi eccetera cioè ehm cosa voglio dire questo che forse reparti russi si sono rifiutati sarebbe interessante sapere se ci sono state diserzioni e quante e secondo me ce ne sono state parecchie o proprio rifiuti di andare a a prendere quel territorio ehm d'altra parte è comprensibile se fino al giorno prima Putin ha detto che ucraini e russi erano più che fratelli scusate e cosa succede allora adesso tu mi hai fatto tutta questa propaganda dicendo queste cose e poi adesso io devo andare a sparare a quello che tu dici essere mio fratello eh ma cercatene un altro perché dal punto di vista dal punto di vista psicologico emotivo i soldati russi sono crollati ma scusate come si fa a mandare ragazzi di 18 anni al fronte avendogli detto che si andava in Crimea e poi buttati lì nei combattimenti 18 anni li avete viste tutti no? le immagini in cui i ragazzi si metteva a piangere che diceva la mamma che gli hanno prestato il telefonino per telefonare alla mamma per dire che la fabbrica è incredibile insomma un errore incredibile madornale dal punto di vista psicologico non c'è preparazione non c'è stata preparazione come anche la tecnica militare ma scusate è tecnica militare della seconda guerra mondiale cioè vai avanti con i carriammati senza appoggio di fanteria senza appoggio di aerei e gli altri che hanno gli armamenti occidentali quei micidiali lanciarazzi che colpiscono sia aerei che carri armati li hanno massacrati io non so quanti carri armati i russi abbiano perso 2000 2500 sicuramente cioè non lo so come è stata condotta questa operazione probabilmente è stata condotta male perché si pensava che gli ucraini lanciassero fiori rose ma non è stata così e i servizi russi scusate che cosa hanno capito della reazione della reazione degli ucraini possibile che non abbiano avvertito che c'erano almeno grosse frange della popolazione perché l'italia di Putin è quello che dice noi andiamo dentro no gli ucraini si ribellano loro stessi pillano il presidente lo cacciano via e noi siamo felici e contenti abbiamo verificato il paese ma i servizi segreti ci sono per qualcosa no e lui poi che è capo ex capo dei servizi segreti ma scusate non è che i francesi mi hanno avuto sicurato il capo dell'intelligence anche i francesi hanno sicurato il capo dell'intelligence perché ah sì 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 ho letto ho letto gli Stati Uniti erano proposti a Zelensky di espatriare quindi sì sì c'è stata una una serie di cose impreviste anche da ma anche anche Zelensky era imprevisto cioè voglio dire è un ex attore che fino al giorno prima scusate era sulla lista nera degli occidentali perché hanno stato corrotto incapace tre cose probabilmente che rubava i fondi eccetera eccetera insomma e poi si è trasformato si è trasformato in un personaggio straordinario di una capacità di resistenza ma anche una capacità dialettica di dialogare di parlare parla con tutto il mondo e ottiene successo da tutti ascoltano tutti è straordinario questo fatto qualcuno l'ha paragonato a Churchill quando Churchill nel 40 prese Redding in Inghilterra sostituendo Neville Chamberlain era un illustro sconosciuto eppure è stato il vincitore della seconda guerra mondiale insieme a Stalin e Roosevelt e poi anche Zelensky ha avuto questa trasformazione cioè gli uomini sono imprevedibili nelle situazioni più più difficili riescono a tirar fuori delle energie morali straordinarie mandiamo grillo in Ucraina mandiamo grillo in Ucraina sì è una buona idea ultima considerazione che mi viene in mente poi smetto perché penso che abbiamo sfondato abbondantemente noi adesso ci riarmiamo perché temiamo che il signor Putin non si fermi lì secondo me si ferma lì perché c'è la gatta da pelare e facciamo finire quindi per adesso dovremmo stare tranquilli ma noi ci arriviamo in questo progetto futuro che riguarda tutta l'Europa abbiamo parlato della Germania eccetera eccetera ma questo non significa che l'Europa abbia accantonato le divisioni allora per esempio una divisione già venuta fuori è la Polonia la Polonia si trova stretta tra la Russia e la Germania che adesso sembra essere la potenza che guiderà la ricostruzione militare dell'Europa la Germania Polacchi ricordano bene la seconda guerra mondiale e che cosa hanno detto già apertamente hanno detto che non si fidano ma non si fidano di Putin non si fidano dei tedeschi dice no questa conversione improvvisa alla lotta contro i russi voi tedeschi che siete stati per 50 anni non gli amici ma insomma quelli che dicevano sempre bisogna parlare dialogare eccetera voi improvvisamente la sera e la mattina diventate i nemici non ci crediamo e questa è già una frattura perché la frattura tornerà perché poi anche noi siamo dalla parte voglio dire parlate con la gente dice sì sì va bene questa guerra a un certo punto finirà quando finirà poi dobbiamo ricominciare a mettere insieme i commerci perché ci danneggia non ci danneggia solo il gas non ci danneggiano solo le sanzioni ci danneggiano anche le controsanzioni russe penso al settore agroalimentare penso ai beni di lusso penso ai oligarchi o iconi che avevano proprietà in Italia eccetera eccetera cioè sono tutte occasioni di di lavoro per noi che sono perdute quindi noi per esempio diremo va bene va bene certo faremo anche l'armamento eccetera eccetera ma adesso appena le condizioni ci sono bisognerà riparare d'altra parte cosa possiamo fare questa Russia è sempre lì è sempre il più grande paese del mondo è sempre un gigante che incombe sull'Europa bisogna ritornare a commerciale poi da lì si cercherà di creare una maggiore fiducia possibilmente senza Putin ma con un altro ma che noi la pensiamo in questo modo insomma la maggioranza credo dei francesi pensano a questa cosa e ti lo paga? vi dico subito il primo paese che viene a ricostruire la Turchia se voi date un'occhiata a tutti i paesi in cui c'è stata una guerra i turchi sono stati i primi a precipitarsi a ricostruire i turchi sono specialisti nell'opera di ricostruzione naturalmente non viene fatta gratis e non viene fatta senza un interesse economico politico e via di seguito con il paese però è in dubbio che i turchi saranno i primi oltretutto tentando anche la mediazione eccetera saranno i primi a proporsi a costruire con i soldi degli altri naturalmente le imprese turchi non hanno così tanto così tanta disponibilità evidentemente cioè si pensa a un piano Marshall giustamente europeo nella grande maggioranza a proposito di Turchia che è andata fuori questa ambiguità di questo Stato che è spretto all'appartenenza dell'armato alleata con la Russia la Siria la Libia e che ha queste comprensioni di armare l'Ucraina con i droni e poi anche al stesso tempo che distruggono le caramati di controllo vuole una risposta con una battuta le contraddizioni sono vita no è una contraddizione vivente Erdogan e la Turchia perché da una parte e dall'altra è un 10 a seconda dei casi e varia a seconda delle circostanze ma adesso se ne sta guadagnando secondo lei ci prenderà no i turchi ci guadagnano sempre ma le costruzioni dopo si troveranno sempre il modo di guadagnare però è interessante che è una tattica militare dell'impero ottomano i turchi forse ancora prima il tribù dei turchi erano famosi perché attaccavano quindi pressione no azione e poi improvvisamente si ritiravano e quando gli altri pensavano che fossero scappati li attaccavano ma da un'altra parte cioè è sempre un'azione onnibolo la diplomazia turca è impossibile da 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 decifrare insomma perché ha i piedi dappertutto Medio Oriente è una potenza regionale che fa una politica globale allora ci abbiamo alla conclusione 10-25 di venire grazie per aver partecipato è stata una bella serata abbiamo scritto nella romandina non è assolutamente nostro interesse dire chi ha ragione chi ha tolto e penso che questa sera il dottor Tivellaro abbia scopo dato un'inventazione che queste sono riflessioni e considerazioni che vengono messe al vostro servizio per poi una casa di ragioni si costruisca il vaso e si fa un disegno complessivo con tanti pezzettini e penso che questa sera le pezzettine sono state visitate all'inventare al commerciale al politico al sociale quindi diciamo tutto molto tutto il disegno sul marce mediano meridionale sul come si sta movendo la Cina la via della seta il ruolo con gli Stati Uniti questa situazione ambito insomma ognuno penso che se quella velocità si porta a casa una serie di pezzettine e poi a casa con la sua testa si fa il suo passo io direi ci vediamo mercoledì prossimo con la votata con la grazia si parla di USA e il ruolo dell'amministrazione Biden nella situazione geopolitica tra l'altro con uno schermone alla votatina quando Xi Jinping dice a Biden chi ha messo il collare alla tigre è proprio lui che deve dare il conto e toglie quindi era un estale che mi voleva dare ne parleremo tuttora alla prossima io ringrazio il dottor Pio Bernardo per una esposizione davvero completa e esaustiva grazie ancora grazie a voi grazie a tutti